good morning anche se direi più buon pomeriggio perché ormai sono le 3.10 qui mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february 12 2022 inizio saturday in apple 62 and six fahrenheit around 17 celsius this means that per me assolutamente non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo sì io credo proprio ormai stiamo andando verso marzo si vede un periodo più primaverile che che invernale ad ogni modo fino a sopraggiungere la primavera dirò sempre il fatto che c'è di invitare a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché impossibile ma quanto meno di combattere il freddo e in tal senso come sempre la maglietta a mezze le maniche che indosso indicativa diciamo appunto nel se all'interno di queste è uno di qualcosa che c'entra comunque all'interno per quanto riguarda il video di pensieri ovviamente lo faccio sempre separato da questo anyway as you just see from the window today we have we have per la quinta volta consecutiva non vuole sbagliare those beautiful blue skies and golden sunshine infatti luccica proprio vicino a me il sole infatti luccica proprio vicino a me il sole proprio qui those beautiful l'abbraccio proprio abbraccio il sole lo tengo nella mano those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way si permettetelo l'abbraccio sempre adesso visto ce l'ho proprio vicino e quindi sì e quindi bene così speriamo di di continuare con questo trend said this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla dire and it's grill Roller shooter behind me on the top already in the shot And finally From a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day In all the people Follow the channel Un saluto veramente a tutti Aspettate Fatemi baciare questo sole So again Have a great day In all these people And everyone too